Le dico che lei abita qui dietro. Ma va. Ha un marito. No. E ha una polizza auto Unipol Sai a tasso zero. Vabbè, quello me lo ricordo. Indimenticabile! Con Unipol Sai scopri Disney e Pixar alla ricerca di Dory dal 15 settembre al cinema. Di che cosa stavo parlando? Con Unipol Sai paghi tante polizze a tasso zero. Fai un preventivo. In omaggio il mare ai suoi segreti e con il concorso puoi vincere Infinity e le Maldive. E chi ce lo dimentica? Eh. Eh. E chi ce lo dimentica?